Ho bisogno di ridere a crepapelle come quando si è bambini, in un gioco. Ho bisogno di staccare la menta. Ho bisogno di sperimentare. Io ho bisogno di rimparare ad amare. Mi piacerebbe fare qualcosa che mi passa per la testa in questo momento, senza dover avere un perché per farlo, senza dovermi preoccupare di che cosa gli altri penseranno di me in quel momento. Ho bisogno di un luogo dove poter socializzare che non sia online. Ho bisogno di liberarmi dalle mie dipendenze, di qualunque natura siano. Ho bisogno di leggerezza. In effetti ho bisogno di non fare niente. E non è facile. Ho bisogno di sintesi, io non sono capace, non mi è stato dato il dono. Ho bisogno di magia. Ho bisogno di un abbraccio forte. Ho bisogno di fare cazzate, tante cazzate una dietro l'altra. Io ho bisogno di giocare con me stessa, in tanti modi diversi e so che qui lo posso fare. Ho bisogno di capire chi sono, cosmoditamente, chi è Stefano. Ho bisogno di migliorare le mie dati recitative per interfacciarmi con il mondo esterno. Ho bisogno di un divano e del tè. Ho bisogno di un posto da dove partire, ma soprattutto dove arrivare. Io ho bisogno di arrivare agli altri. Io ho di capire me stessa, il mio corpo e gli altri. Ho bisogno di conoscere me stessa e relazionarmi con gli altri. Io ho bisogno di un altro video.